Vogliamo parlare un po' di questa novità, che comunque la Calabria penso aspetti e molte volte viene diciamo disatteso. Sì, vabbè, il Movimento oggi continua la sua attività ufficialmente, oggi è la riunione per istituire il Movimento Civico Tesoro Calabria, noi individueremo le basi giuridiche da cui partire e la partecipazione è quella che vedete, non ce la facciamo andare e contenere tutti in un'unica sala, dobbiamo fare, molti rimarranno fuori, però diciamo meglio così perché vuol dire che la partecipazione è ben al di sopra delle nostre aspettative. Tesoro Calabria è il Movimento dei calabresi tiberi, dei calabresi che ci hanno dato la loro fiducia senza avere niente in cambio, non abbiamo dato nessuna promessa in cambio, così come hanno fatto altri candidati che hanno promesso di tutto e di più, hanno pure fatto ricariche telefoniche per poter avere le candidature, voglio ricordare che il voto di scambio è un reato penale, invece noi qua siamo tutte persone libere e come persone libere noi porteremo avanti questo discorso nei prossimi anni. Noi ci candideremo d'ora in poi in tutte le competizioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali, a partire dal consiglio comunale di Crotone, quello di Reggio, insomma è così, noi siamo lì pronti per poterci presentare e per poter rappresentare la calabria migliore, la calabria pulita dalle persone libere, dalle persone pulite. Grazie a tutti!